Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla strada di grande comunicazione FIPILI. In A1 verso Bologna divieto di transito ai mezzi pesanti con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo, tra il bivio con la variante di valico Baccheraia e Aglio. Sulla strada regionale 2 via Cassia, senso unico alternato per restringimento della carreggiata, tra i chilometri 278 e 900 e 279 e 500 circa nel comune di San Casciano in Val di Pesa. Per la viabilità cittadina Firenze via di Santa Marta resterà chiusa fino al 16 maggio da via Ernesto Rossi a via della Pietra. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!